19 arresti tra medici e imprenditori farmaceutici, 75 persone indagate, 17 aziende coinvolte e 500 mila euro sequestrati a due società. È il bilancio della maxi operazione dei NAS di Parma che all'alba di oggi ha visto coinvolti ben 200 militari del comando per la tutela della salute e dei comandi provinciali di sette regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio, nell'esecuzione delle misure cautelari, nei sequestri e nelle confische relative alle attività illecite di quella che è stata riconosciuta come un'associazione per delinquere, finalizzata alla corruzione e al riciclaggio, nel campo della sperimentazione sanitaria e nella divulgazione scientifica per favorire le attività commerciali di imprese farmaceutiche nazionali ed estere attraverso la commissione di abuso d'ufficio, peculato, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori. I medici e gli imprenditori arrestati erano attivi nella commercializzazione e promozione di farmaci e di dispositivi medici. Le società sequestrate erano state appositamente allestite per il riciclaggio del provento delle attività illecite. Da qui anche la confisca di quasi mezzo milione di euro, quale profitto per la commissione del reato di corruzione. Secondo il NASI il sistema corruttivo girava attorno alla figura di un importante dirigente sanitario pubblico, il professor Guido Fanelli, titolare di numerosi incarichi anche a livello nazionale oltre che regionale per quanto riguarda la trattazione della terapia del dolore, con potestà decisionale in materia di ricerca scientifica e terapeutica raccolta di dati e sperimentazioni cliniche. Lo scopo era quello di guadagnare favorendo alcune case farmaceutiche intenzionate a creare proprie zone di influenza con la diffusione dei loro prodotti farmaceutici. Pertanto venivano condotte sperimentazioni cliniche illegittime su pazienti inconsapevoli e preparate ricerche per sostenere e promuovere le case farmaceutiche coinvolte e i loro prodotti, grazie anche alla compiacenza di un dirigente del Ministero della Salute. Sono state eseguite inoltre durante la giornata odierna 52 perquisizioni presso le abitazioni dei professionisti coinvolti nella vicenda e presso le sedi di importanti società e note aziende farmaceutiche.